Sparare su di noi è molto facile, ma noi non siamo solo maghi, streghe e fate, perché l'eterno è ancora incomprensibile per tutti voi che più non ci credete. Non abbiamo mai venduto alghe o intruglie a chi ci vuole legati ancora al palo, quelli sappiamo essere solo degli imbrogli perché si sente in una gabbia affranto e solo. Ma sono i pescatori di anime, come squali senza remore, che ti portano lontano nei loro templi del potere. Poi ti tengono per mano e non si riesce più a scappare, come tartarughe rovesciate che non arriveranno al mare. Perché i più fragili hanno bisogno di magia e noi da sempre siamo spalle su cui piangere, a dare pace e ancora a togliere gelosia perché ha bisogno di qualcosa in cui credere. Un tempo andato eravamo noi i sapienti, sani custodi della vasta conoscenza, ma grazie a qualcuno ora siamo venditori di una illusione o un'altra falsa speranza. Ma sono i pescatori di anime, come squali senza remore, che ti portano lontano nei loro templi del potere. Poi ti tengono per mano e non si riesce più a scappare, come tartarughe rovesciate che non arriveranno al mare. In questo mare di emozioni abbiamo tutti una speranza, non esser lì all'ultima spiaggia, su una barca che non viaggia. Il dolore è come lenza e con un piede nella fossa, dove vivere o morire è soltanto una scommessa. In che altro modo dirlo, purtroppo non lo so. Ma sono quelli i pescatori di anime, noi no. Grazie a tutti.